Ieri importante riunione tra i membri della commissione medica e i dirigenti della FIGC, tutti a lavoro per stilare un percorso che garantisca la sicurezza di tutti, dai calciatori ai fisioterapisti, allo staff tecnico, ai medici, sino ai magazzinieri e agli autisti. L'idea è quella di far ripartire gli allenamenti il prossimo 4 maggio, alla scadenza del DPCM attualmente in vigore sul divieto di ogni attività. Nella riunione non ci sono state frenate, ma per la definizione finale del protocollo bisognerà aspettare la prossima settimana. Obiettivo tracciare le linee guida del protocollo sanitario di garanzia per la ripresa degli allenamenti finalizzati ovviamente alla ripartenza dei campionati. Detto questo, il presidente federale Gabriele Gravina ha ribadito a tutti i componenti l'obiettivo far ripartire il calcio in sicurezza. Il protocollo ispirato ai principi di semplicità e fattibilità prevede una serie di prescrizioni e raccomandazioni per l'individuazione e la conservazione di un gruppo, tra virgolette, squadra formato da tutte le componenti del calcio. In via preliminare, il lavoro della commissione raccomanda il ritiro chiuso almeno per il primo periodo di allenamento, modello, preparazione estiva, propedeutico alla piena ripresa dell'attività e con la sorveglianza del medico sociale e del medico di squadra. Il ritiro sarà preceduto da uno screening a cui si dovrà sottoporre tutto il gruppo. Tali indagini prevedono, oltre all'esecuzione del tampone due volte e del test sierologico, una visita clinica, esami strumentali del sangue. Peraltro su input della stessa FIGC, che per facilitare l'espletamento di tutte le procedure di screening e favorire una migliore organizzazione logistica, è previsto si possa prendere in considerazione la possibilità di ripartire a tre velocità, ovvero prima la serie A, poi la serie B e la serie C. Una partenza step per i tre campionati. Il luogo per l'allenamento deve essere ovviamente sanificato, parliamo di centri sportivi, palestre, spogliatoi e alberghi, qualora i club non abbiano una propria serie per il ritiro. Il protocollo poi passerà alla gestione con attenzioni specifiche alle varie attività di allenamento e sull'organizzazione e l'impiego delle diverse strutture. Un documento da finire dunque che il presidente Gravina trasmetterà per la valutazione ai ministri per lo sport Vincenzo Spadafora e della salute Roberto Speranza. Insomma la strada è intrapresa e questi saranno gli step previsti nei prossimi giorni. Novità sulle regole di gioco, al vaglio anche un cambio di regolamento, le componenti arbitrali stanno valutando l'idea di aumentare le sostituzioni da 3 a 5 per la serie A d'estate. Un modo per aiutare i giocatori affaticati o anche accaldati nei mesi estivi, visto che il campionato ripartirebbe dopo un lungo stop. Il via libera non è assolutamente escluso. Cosa succederà poi per gli stadi se la serie A dovesse davvero ripartire nella prossima estate? La sensazione è che si può dire addio per un lungo periodo agli stadi pieni. Gli spalti saranno vuoti sino a quando arriverà il vaccino. Impensabile controllare col termometro migliaia di persone che si ammassano ai tornelli, senza pensare al distanziamento, soprattutto in occasione di un gol realizzato dalla propria squadra. Quindi porti chiuse per mesi, con possibilità anche per la nuova stagione. Quindi tutti davanti al televisore. Nessun cenno sulla ripartenza del torneo di Serie D e di tutti i comitati regionali della LND, almeno stando alle notizie che arrivano post riunione FIGC. A tal proposito è intervenuto l'amministratore delegato del Palermo, primo in classifica nel girone I, Rinaldo Sagramola. L'auspicio per noi è di poter concludere regolarmente la stagione. Laddove non fosse possibile andrebbe capito come, con tre quarti di campionato disputati, verranno considerate le classifiche. Ovviamente nel nostro interesse c'è che i nostri sacrifici e le nostre risorse impegnate non siano vanificate. Faremo di tutto nelle nostre possibilità per difendere i legittimi interessi, perché comunque gran parte del campionato si è svolto e le classifiche devono avere un valore. Faremo tutto il possibile anche spostando date e luoghi per chiudere la stagione ed evitare battaglie legali. Un parere autorevole che certifica la volontà anche di alcune realtà di Serie D di ripartire con i campionati.